Diego Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'almaracco di bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non solo una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo al manacco di bellezza 8 maggio Leonardo Piccinini Piero Maranghi Leonardo prima di iniziare ringraziamo gli amici dell'associazione culturale e casa editrice il ponte del sale di Rovigo poesia 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 che ci hanno infatti inviato in dono due loro pubblicazioni una a testa a me andato e così via e a lui invece hanno inviato minuscola minuscola parliamo di edizioni prestigiose la carta già la carta ci dice molto c'è una cura la rilegatura e così via è una raccolta di poesie di Boris Rigi Leonardo con il testo russo a fronte che bello ma è una cosa stupenda io ne farò dono anche alla mia mamma sai sì sì che a differenza tua legge io non ho mai letto e il poeta Boris Rigi si è spento giovanissimo aveva 26 anni nel 2001 a Ekaterinburg certo quindi questa è l'unica raccolta dei suoi scritti diciamo subito che il ponte del sale nasce nel 2003 promuove incontri pubblicazioni letture mostre è una realtà culturale che ci crede e questo è un dato molto interessante e che crede che la poesia possa essere una forza motrice del nostro presente quindi il loro scopo è quello di condividere un patrimonio di bellezza che aspiri ad essere una forma alta di humanitas caro Leonardo esatto che non è l'humus è l'umanitas che non è l'ospedale no l'ospedale non non ci andiamo hanno anche un motto latino molto portalupiano sapere agere lo qui sì conoscere operare esprimersi esprimersi quindi ringraziamo Marco Munaro la casa editrice il ponte del sale di questo dono hanno detto di essere dei fedelissimi dell'almanacolo noi naturalmente siamo la qualità se i nostri telespettatori sono come lo siamo a posto è veramente un l'unico problema siamo noi due e la redazione diciamo immeritatamente noi godiamo di un pubblico meraviglioso voglio anche salutare una nostra telespettatrice triestina Liliana Davanzo che molto si è lamentata del fatto che tu sia sparito dopo la recita non sappiamo le ragioni di cenere entro lei ti voleva conoscere recupereremo è l'occasione per un nuovo viaggio a trieste e in attesa di dire quando trasmetteremo delle opere di cimarosa come lei chiede possiamo annunciarle che il 20 di luglio lei potrà assistere su classica naturalmente all'hotello di gioachino rossini come richiesto 20 luglio per Liliana Davanzo l'hotello di gossini in prima sera si potrebbe intitolare maranghi risponde beh certo è la rubrica e poi c'è anche un sottotitolo piccinini no va bene iniziamo la puntata partiamo da un frammento di una recente produzione del festival di salisburgo di un'opera che fino a qualche anno fa sembrava destinata a rimanere archiviata come esempio di teatro sperimentale degli anni 60 70 e invece in un contesto ricorsi esattamente sembra essersi che ha acceso l'interesse per le opere dell'autore di cui parliamo oggi pensiamo a intolleranza 1960 che io ho potuto anche vedere alla fenice di venezia pensiamo al gran sole carico d'amore quindi avete chiaramente capito noi stiamo per parlarvi di luigi nono luigi nono a milano è ben conosciuto il nome ma la via è dedicata al nonno pittore nonno pittore che ricordiamolo è stato un artista omonimo molto interessante se andate a cappesaro c'è la morte del pulcino del pulcino 1881 cappesaro che premettiamo è un bellissimo museo stupendo anche se si dedica un po a tutto dovrebbe invece focalizzarsi solo sulla ecco hai un museo che è di arte dell'otto del novecento e poi vedi che fa la mostra dell'ultima lasciamo perdere no ecco ci siamo già fatti dei nemici però sono d'accordo con te sempre però è un museo fantastico andate no ma è meraviglioso meraviglioso canal grande bugnato capolavoro capolavoro allora l'otto maggio del 1990 si spegne a venezia naturalmente luigi nono e parlare su classica di luigi nono è un onere e un onore è un andare a nozze beh allora un onore perché innanzitutto noi siamo mossi da un profondissimo affetto per sua moglie nuria nono schoenberg e abbiamo già detto tutto la figlia di arnold sposa di luigi nono ed è stata un istancabile promotrice dell'opera del marito un onere perché parliamo dell'autore di musica straordinariamente complessa ma anche di un artista certamente irrequieto immerso nelle atmosfere del suo tempo ma anche impegnato disallineato molto spesso impegnato abbiamo abbiamo sentito c'è che vara alla scala è un battitore libero luigi nono è un battitore libero allora parliamo del profilo di un artista convintamente anti accademico lui non si diploma e anche quando segue le lezioni di gianfrancesco malipiero che incontra nel 41 lui altro venezian 17 anni è un allievo esterno rigorosamente esterno forse è anche per questo che sin dall'inizio nono segue un percorso anticonvenzionale che affianca lo studio di monteverdi della trattatistica rinascimentale quindi zarlino gaffurio vicentino all'analisi della musica della seconda scuola di vienna e di belabalto che è una direttrice che peraltro rispecchia il background socio culturale del giovane nono che appunto è figlio di una famiglia della colta borghesia veneziana e come abbiamo detto nipote discendente tra gli altri del pittore luigi che è stato veramente un pittore notevole della fine dell'ottocento una linea quella di nono che lui persegue insieme al suo mentore e compagno di strada simpaticissimo meraviglioso bruno maderna altro grande veneziano altro grande le prove alla felice marimbe xilofon meraviglioso meraviglioso bruno maderna allora i due si conoscono subito dopo la guerra e maderna avrà un ruolo decisivo nel lancio della carriera di nono perché è con lui che si inizia a frequentare i corsi di darmstad e con lui si impone negli ambienti delle vanguardie musicali degli anni 50 e nel corso di quelle elezioni nono inizia a sviluppare una concezione molto personale del rapporto tra il materiale musicale il contesto storico che poi si tradurrà in quello che noi conosciamo essere il suo fortissimo impegno politico come un artista che ha sempre agito nella realtà del proprio presente entra nel gota di darmstad bulez stockhausen possè coi quali condivide l'idea di un'elaborazione del percorso segnato da schoenberg e ritorna con la dodecafonia però lui come abbiamo detto è un disallineato nel senso che ben presto taglierà i ponti con quell'ambiente per percorrere una strada tutta sua si dichiara a un certo punto pubblicamente estraneo a quella che definisce lui la deriva iper deterministica del serialismo integrale su cui poi si vola altissimi e poi si distanzia anche dall'esperienza della musica aleatoria di ascendenza americana john cage john cage che sta contagiando darmstad e fin dai primi anni tutto accade a darmstad tutto però lui fin dai primi anni 60 segue il suo percorso personale non solo nelle premesse estetiche ma anche nella prassi compositiva la sua musica è un ideale sintesi tra tutte le istanze delle avanguardie e la lezione della grandissima scuola italiana del rinascimento quella polifonica la sperimentazione con la musica elettroacustica in quel momento va di pari passo con l'idea di integrazione dell'elemento spaziale e sappiamo benissimo sono anche gli anni in cui si viene il mitico studio di fonologia della rai a milano che oggi è conservato al castello e sappiamo è un luogo che avrebbe attratto anche maderna e anche berlio senti leonardo abbiamo parlato prima dei riferimenti letterari filosofici anche ideologici 1953 epitafio a garcia lorca esatto bravo per perché i suoi riferimenti sono neruda garcia lorca pavese ungaretti c'è ghevara gramsci majakoski dalla fine degli anni 50 nono si muove in direzione di una frammentazione del testo nelle sue componenti diciamo vocaliche e oltre a questo lui instaura un legame del tutto personale con gli interpreti per i quali concepisce le sue le sue opere ad esempio come una ola de fuerza ilus o sofferte onde serene entrambe create per maurizio pollini che tra l'altro ricordiamo l'è scomparso lo scorso 23 marzo e poi pensiamo a quella meravigliosa collaborazione un capolavoro fragmente still an di otima del 1979 che è il frutto di un anno di intensissima collaborazione col mitico quartetto la sal da satman clarsheim per un flautista roberto fabbriciani e insieme a ghidon kramer la lontananza nostalgica utopica futura 1988 due anni prima solo della sua scomparsa e poi potremmo farne molti di nomi ce n'è uno però che è imprescindibile nel percorso di luigi nono è quello di claudio abbado che tiene a battesimo tra le varie cose le due pagine drammaturgiche più importanti al gran sole carico d'amore e prometeo prometeo di cui abbiamo recentemente parlato a proposito dello splendido libro di carlo fontana e carlo fontana fu diciamo il regista dell'operazione una operazione che si svolse a venezia per la biennale con dei nomi meravigliosi cacciari abbado piano stupendo emilio vedova il rapporto con emilio vedova è un altro punto fermo particolarmente importante ascoltiamolo quando sento parlare di forme o di strutture che si vengono le date si vengono determinare istintivamente sono contro sono molto di più in questa scoperta che per caso che mi è capitata a toledo camminante se non hai cammino hai che camminare sono infiniti gli aspetti da discutere sull'attività artistica di nono negli anni della contestazione la sua militanza nel partito comunista i concerti nelle fabbriche noi vorremmo invece lasciarvi con un'ultima nota per parlare del decennio l'ultimo decennio creativo di luigi nono che solo in apparenza è scollato dal suo percorso precedente e appunto il punto di partenza è il quartetto fragmente stille perché vengono anticipati alcuni nuclei tematici che poi sarebbero stati sviluppati anche su istigazione dell'amico massimo cacciari e gigi e gigi gli diceva nella fattispecie la poesia di alderlin ma sembra ricercare luigi nono con strumenti puramente acustici una nuova idea di eventi sonori e questo è un lascito imprescindibile anche per chi vuole conoscere affrontare e sviluppare la musica contemporanea oggi e il suo universo poetico nel frattempo si è arricchito di nuovi riferimenti Nietzsche, Rilke, Walter Benjamin, la mitologia greca, la mistica ebraica sono appunto gli anni del grande monumento chiamato Prometeo che abbiamo appunto raccontato 1984 40 anni fa nella chiesa di San Lorenzo con la struttura a linea meravigliosa di Renzo Piano e sono anche gli anni di partiture orchestrali straordinarie pensiamo a Carlo Scarpa architetto e a chi non avesse mai osato approcciare la musica di nono potremmo suggerire di partire proprio dall'ultimo nono che è il più dirompente e il più attuale probabilmente vi lasciamo ancora con un ascolto ricordando che c'è una fondazione Archivio Luigi Nono che è stata promossa, creata da Nuria Schoenberg Nono e dalle figlie Serena e Silvia Nono che continua a svolgere un ruolo decisivo in questo ambito perché non solo rende accessibile la sua musica ma stimola una diffusione coerente diciamo alle intenzioni dell'autore lui avrebbe compiuto cento anni a gennaio ma noi che siamo snob l'abbiamo solo ricordato a un passant allora e oggi invece ricordiamo l'8 maggio del 1990 l'anno della sua morte e ci auguriamo che la sua musica continui ad appassionare un pubblico sempre più vasto e appunto le recenti produzioni di Intolleranza e di Al Gran Sole a Salisburgo e a Berlino e anche del Prometeo a Parma e a Venezia lasciano diciamo ben sperare e voglio dedicare questa puntata a un membro della nostra redazione che di Nono è un grandissimo cultore ed è Paolo Faroni e viva grazie Paolo e viva Luigi Nono discutere con Nono di qualsiasi argomento sia musicale sia politico sia d'altro genere era sempre un'occasione di confrontarsi e di e di far proprio un punto di vista sempre assolutamente al di fuori di qualsiasi convenzionalità di qualsiasi meschinità di cui la vita di tutti i giorni non fa che darci infiniti esempi era l'esempio di un uomo col quale era molto bello stare insieme in fondo voi mi avete fatto un piacere quella maledetta roba mi pesava sulla coscienza ma voi avete detto che i mitra erano sette invece erano otto chi ha preso l'altro l'ho preso io e quando la rivoluzione proletaria scoppierà stare lontano dalla canonica ci ritroveremo all'inferno e questo durava da anni iniziamo con Julien Duvivier perché questo personaggio che tutti voi avete riconosciuto ci ha fatto molto ridere i suoi denti sono un'enorme rastrelliera e saracinesca nello squarcio della bocca che arriva alle orecchie non sono feroci sono un mezzo comico una maniera di ridere la lunga faccia cavallina è supremamente espressiva nei disegni caricaturali egli sta bene nei panni dell'ometto mediocre di limitata intelligenza di modesti ideali e di semplice onestà magari è un po fanfarone ma senza malizia fanfarone come il guitto è fatuo ma il cuore buono così uno storico pezzo del 1939 descrive il protagonista della nostra puntata fernandel che nasceva oggi l'otto maggio del 1903 anche qua abbiamo bucato il centoventesimo ma perché è il nostro snobismo c'altro snobismo e permettimi di salutare pierluigi bersani che ha dato ha cognato la definizione cialto snob è suo il copyright è suo il copyright e l'altro giorno noi abbiamo erroneamente citato pierluigi parlando del coccodrillo del dinosaurio e della lucertola lui mi ha scritto più precisamente la lucertola è il riassunto del coccodrillo giusto ok siamo precisi siamo precisi allora lui era nato fernand joseph il nome d'arte sembra lo avesse cognato la suocera il giorno delle nozze con la figlia disse voilà le fernandelle le fernandelle di apostrofo elle hai capito il fernando di lei da lì per tutti e per sempre sarà fernandelle il luogo della sua nascita è un po dibattuto tra i due confinanti piemonte e francia sembra però ormai accreditato sia nato a marsiglia da genitori originari della val chisone sei mai stato in val chisone più più volte più volte più volte dove c'è una targa su una casa ormai di roccata che ricorda ancora la provenienza della famiglia sapeva infatti parlare il dialetto piemontese stentava di più con l'italiano era figlio di un attore dilettante cresce in una famiglia di estrazione umile in un quartiere molto molto popolare di marsiglia è un bambino curioso sensibile qualche volta un po malinconico ma assai più spesso è molto gioviale ed è molto scherzoso ed esordisce su un palcoscenico a soli cinque anni e a nove è già costretto dalla sua condizione familiare a fare piccoli lavori per sbarcare il lunario allora dopo la scuola dell'obbligo e dopo tanti tanti lavori farà anche lo scaricatore di porto da buon marsigliese mi viene da dire trova impiego come fattorino a 25 franchi al mese alla banque nazionale du credit ed è qui che conosce quello che diventerà il suo più grande amico jean mans e continua fino al 1925 a frequentare i caffè concerto lì si esibisce alla sera come caratterista come cantante e sposa in quell'anno a riet manse la sorella dell'amico jean e hanno tre figli josette janine e frank il cinema arriva poi negli anni 30 prima con i piccoli ruoli da commedia nel bianco e nero le blanche le noir c'è una prima interpretazione e poi ne arriva un'altra drammatica né il rosetto di madame usson allora lui comincia alternando ai molti film da serie interprete nelle pellicole di nomi stupendi e tourner camarges pagnol con altrettante apparizioni da comico e qui forse è il crinale che lo vede appunto impegnato in film colti e in film invece più commerciali diventa famosissimo è proprio il momento in cui appunto la sua notorietà esplode anche a livello internazionale leonardo diventa il simbolo della comicità francese nel mondo fernandè soprattutto però è ovvio noi italiani lo ricordiamo per don camillo che due citazioni ci aiutano a definire la prima il prete più famoso della cristianità dopo il papa lo diceva e il prete più reazionario del mondo come lo descriveva invece il suo nemico peppone ginocene nemico amico stupendo non mi sembra che sia il caso di litigare o neanche a me e poi in fondo siamo perfettamente d'accordo no 10 milioni recuperati per il popolo e cioè 7 milioni per la casa del popolo e 3 milioni per la città giardino dei bambini del popolo sinite parvulo svenire a me 7 milioni più 3 milioni totale 10 milioni chiedo solo ciò che mi spetta e come tutti sapete la sua consacrazione avviene appunto negli anni 50 con una serie di pellicole dedicate alla lotta di questo parroco della bassa emiliana con il sindaco comunista ricordiamo che la saga letteraria inizia nel 48 la prima pubblicazione di giovannino guareschi per rizzoli è un grande successo e quindi poi si arriva a questa coproduzione italo francese da qui la scelta di duvivier c'è come abbiamo raccontato più volte una una ipotesi diversa di coinvolgere vittorio de sicca ma poi appunto duvivier e duvivier si porta dietro fernandel il film il primo film e quelli che seguiranno è molto più morbido rispetto al libro di guareschi guareschi sappiamo che nel 48 appunto è uno dei grandi protagonisti della battaglia elettorale no è quello che conia il famoso slogan stalin no e don camillo nel suo libro è molto più manesco che nel film e anche meno però arguto quindi il film i film riescono a trasformare questa battaglia in fondo in un'unione di opposti anche in un clima di così di distensione possiamo dire ricordiamolo c'erano migliaia di spettatori che ingolfavano il cinema allora e oggi milioni di spettatori non hanno mai mancato il passaggio televisivo della saga io mi ricordo quando ero bambino li vedevo avevo una tristezza quando arrivava alla fine del film ecco mi dispiaceva volevo che andasse avanti con la voce del narratore meravigliosa tutti per una forma di immedesimazione magnetica in questi stereotipi umani pieni di difetti ma anche di semplice bontà carichi di semplice bontà che hanno veramente caratterizzato quell'italia tu poi l'hai anche conosciuto fernandello sì ci siamo frequentati a lungo perché come tu sai io sono nato nel 30 senti leonardo lui a proposito del suo personaggio diceva se l'ho amato guarda un po avevo dio come partner don camillo don camillo ed in effetti è una delle cose che è molto successo proprio fu questo terzo protagonista il croce fisso della chiesa della mitica brescello brescello senti ricordiamo anche quella voce era di ruggero ruggeri sì sì poi un cocktail di personaggi meravigliosi il catanese saru zì diciamo che buona parte del successo anche alla presenza di personaggi meravigliosi e di protagonisti che fanno la loro apparizione penso a paolo stoppa che fa il fascista che torna in paese e gli viene fatto bere l'olio di riccio e credo che nella versione inglese la voce del croce fisso fosse quella di oxon wells che si volava altissimo successo veramente internazionale senti una simpatica menzione va ad alcuni ruoli usciti in altre commedie dello stesso sapore totò in la legge e legge con fernandello appunto 1958 allora la saga di don camillo va avanti per cinque episodi c'è anche comencini sì ci sarebbe stato anche un sesto film dal titolo don camillo i giovani d'oggi 1972 però la copia diversa gastone moschin e standard perché perché gino cervi rifiutò categoricamente di prendere parte alla pellicola senza fernandello nell'agosto del 70 infatti la produzione aveva sospeso le riprese a causa del tumore che aveva colpito fernandello già da tempo gino cervi torna a roma a metà gennaio del 71 fernandello telefona a christian jacques per rassicurarlo sulle proprie condizioni di salute che parevano migliorare e per dirgli che poteva raccontare su di lui ma il 26 febbraio del 71 fernandello muore e è stato sepolto nel cimitero di passì a parigi e nell'italia del dopoguerra fernandello e gino cervi rappresentavano le due anime più diffuse nell'immaginario nazionale direi insieme a quelle di coppie bartali è meraviglioso meraviglioso leonardo permettimi di dedicare questa puntata a un uomo stupendo che è un nostro assiduo telespettatore che in una piacevolissima conversazione mi ha fatto comprendere una volta di più quanto quel periodo storico sia stato un periodo storico incredibile per le cose belle anche per quelle drammatiche e credo che fernandello e gino cervi guareschi e tutta la banda abbiano permesso a questo paese anche di superare delle lotte intestine terribili che era giusto superare quindi questa puntata la dedichiamo a nonno giorgio con le sue due stupende nipoti amaglia e adelaide e all'arte di sdrammatizzare evviva un giorno però le acque si ritireranno ed il sole ritornerà a splendere allora ci ricorderemo della fratellanza che ci ha unito in queste ore terribili e con la tenacia che dio ci ha dato ricomincieremo a lottare perché il sole sia più splendente perché i fiori siano più belli e perché la miseria sparisca dalle nostre città e dai nostri villaggi alle nostre spalle il libro dell'almanacco e per Liliana Servadei d'Avanzo l'hotello di Rossini appunto che ci prepara all'ascolto di luglio di questa stupenda opera di questo capolavoro del pesarese e tu caro leonardo mi farai leggere il timbota il timbota certo oggi è mercurde e ci dice in maniera in maniera cioè ciò che è certo ovviamente ciò che ovviamente in maniera in maniera in maniera la balera va bene tu e io diciamo recepisco il gioco che ha proposto il corriere della sera sulla lettura qualche tempo fa siccome si va verso le elezioni europee allora un'opera d'arte per ogni stato no delle di tutte le nazioni europee Stefano Bucci per la Francia così come divertimento ha scelto il giuramento della pallacorda di Jacques Louis David o perlomeno ciò che rimane di un progetto di un'opera che non fu mai eseguita nella sua enorme dimensione stiamo parlando di una tela che avrebbe dovuto misurare 10 metri per 7 ma al Musée Carnavalet che invito a visitare tra l'altro ha riaperto da poco dopo un lunghissimo restauro c'è una versione più piccola del 1791 di 65 per 88 centimetri e in questo in quest'opera David si rifà al giudizio universale di Michelangelo alle stanze vaticane un teatro della storia in cui David prevedeva di raffigurare i 630 membri dell'assemblea costituente quindi diciamo magliene incolse al re magliene incolse al re e anche un po' a David perché con la pallacorda caravaggio docet è meglio non scherzare mai con la pallacorda bisogna stracere un grannuccio tommasoni però David è un po' come piacentini ha attraversato a rieccolo va bene e viva a domani al manacco di bellezza a cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini con Lucia Simioni Stefano Puppini Jacopo Milardotti Paolo Faroni Riccardo Cassani Greta Torresi Samantha Chiodini realizzato da Amerigo Daveri Valentino Puppini Luigi Consolandi Stefania Margheritti Alessandro Puppini prodotto da Piero Maranghi una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo